buongiorno ragazzi guarda l'alba guarda che bella mattinata castello di pizzeriata vai grande grande parte parte Puglia, puggia ragazza questa qua! Grande, grande! Grande, grande! Grande, grande! 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 Grande, grande! Grande, grande! Piazza Grazie ragazzi Eccolo dopo 20 km, è morto, è finito Quanto tempo? 3 ore? 12 però con tanti fermati, tanti foto Lui si pensava di fare le piscine, la cucinetta fa un po' facile Vai, go Eccolo dopo 20 km, è finito